Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di riso Brodo 60 grammi di burro 2 cucchiai d'olio 130 grammi di gorgonzola piccante Pepe Parmigiano grattugiato 3 cucchiai di panna Una cipolla tritata Un bicchiere di vino bianco Sale Preparazione Indiondire la cipolla in olio e metà burro Unire il riso e farlo insaporire Spruzzare con il vino e far evaporare Salare e pepare Portare a cottura Versando poco alla volta il brodo caldo Passare al setaccio il gorgonzola con il burro A fine cottura incorporare al riso la panna Il gorgonzola e il parmigiano Mescolare e servire Il piatto è pronto Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Grazie a tutti.